Ciao a tutti, mi chiamo Alfredo, ho 36 anni e sono di Susa, in provincia di Corino. Questa non è una vasca da bagno, voi potete pensare che sia una vasca da bagno, ma poi se è una vasca da bagno c'è un volante, c'è un pilota, secondo me per essere un pilota della vostra scuderia, bisogna essere testardi, determinati, i calcolatori, di avere un minimo di pazia, essere un po' estroversi e soprattutto motivati e determinati ad arrivare fino alla fine. Queste sono le caratteristiche che secondo me deve avere un pilota per correre con la vostra scuderia. Io sono sempre stato appassionato di macchine, da quando ero bambino, da quando seguivo qua la Susa Moncenisi o Super Ritornanti con la A112, la Abarth, mitica Abarth, e poi ho passato il tempo, mi sono appassionato a rally, scusate che regolo più volante, mi sono appassionato a rally e a Formula 1, anche se per me la Formula 1 è finita nel 1994, il primo maggio, ad Imola, però dai va bene, ma ti show must go on, tasto! Perchè dovete scegliere me? Perchè sono abbastanza fuori per mettermi vestito in una vasca da bagno? Può essere! Grazie! Grazie a tutti!